A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili ha chiamato Grazia e ha detto ma senti un po' qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti e Grazia ha detto sì perché? ma allora se sono tutti socialisti a chi rubano? Terribile, terribile terribile, va bene io me ne vado me ne vai già ho finito, vi ringrazio, ci vediamo a Fantastico 18 sempre confito ciao a tutti ciao a Beppe ciao grazie ciao